eccoci qui in diretta d'Ancona live piazza capur corso Garibaldi questo è il centro di Ancona non è male come città un po' piccola 110.000 abitanti ma meglio di tante altre città poi c'è il mare questa è la statua di Camillo Benzo Ponte di Gabor poi sono questi palazzi bianchi caratteristici di Ancona antichi architettonici che non sono male a a a a a a